Arriva la nomina ufficiale per il consigliere regionale Franco Alfieri, in qualità di capo della segreteria politica del governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Sono davvero lieto, oltre che onorato, di annunciarvi che è stato formalizzato il mio incarico di capo della segreteria del presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca. Ha annunciato Alfieri sulla sua pagina Facebook. Non posso che ringraziarlo per questa attestazione di stima e fiducia continua. Sarà un grande privilegio poter lavorare al suo fianco. È un incarico prestigioso e di grandissima responsabilità ed è per me una nuova vincente sfida. Ma sapete bene che io amo le sfide e, soprattutto, sono abituato ad affrontarle con determinazione, tenacia, passione e sacrificio. Sono già al lavoro per dare il mio contributo di esperienza e di conoscenza dei territori. Come già avete avuto modo di verificare nell'ultimo anno, in qualità di consigliere del presidente per l'agricoltura, la caccia, la pesca e la forestazione, lavorerò ogni giorno per sostenere ed imprimere ulteriore slancio al grande lavoro che il presidente De Luca sta portando avanti nell'attuazione del programma di governo regionale, che già tanto ha fatto e che ancora molto intende fare per la nostra bella campagna e conclude. Sono certo che anche in questa nuova avventura, che affronto con grande entusiasmo, non mi farete mancare il vostro sostegno ed affetto.